Il mio lavoro oggi è proporzionare un discorso aperto sulle necessità e il futuro della cardiologia e questo è, considero, una sorta di proprietario e devo dire che la cardiologia so far ha fatto estremamente bene se pensiamo che la cardiologia ha contribuito al aumento di 10 anni della vita per circa 7 anni e questo è meraviglioso se stiamo considerando che la oncologia ha contribuito solo per un po' di mese però la cardiologia non ha soltato il problema cardiovasculare e la mortalità cardiovasculare che continua a essere la più alta di tutte le altre patologie e ciò che abbiamo fatto è che abbiamo aumentato l'ascimento della popolazione abbiamo contribuito all'ascimento della popolazione e abbiamo contribuito all'ascimento di due o tre cose non così molte il numero uno è la rivascularizzazione di infarction myocardiali sia con la thrombolysis o con la angioplastia primaria il numero due è il discorso di neuro anti-endocrine che sono molto importanti per promuovere la longevità e il numero tre è il discorso del effetto catastrofico del colestero alto sulla arteria coronaria con le statini e le droghe relativa ma come ho detto abbiamo veramente aumentato l'ascimento della popolazione e in questo modo in questo modo la cardiologia si sta iniziando in alcuni problemi perché in questo momento per fare un testo clinico prende molto più lungo e molto più investimento quindi c'è la necessità in mia opinion di cambiare la nostra tattica e c'è la necessità per esempio di investire più e più in prevenzione perché abbiamo mostrato che possiamo trattare ma trattare è diventata molto più costante e quindi sarà molto meglio di prevenire invece di solo trattare abbiamo bisogno anche di impostare il nostro obiettivo perché abbiamo bisogno di considerare per quanto tempo vogliamo migliorare la vita dei nostri pazienti so che questo sembra essere una domanda ma possiamo perdere la patologia ma non possiamo perdere la fisiologia e fisiologicamente uno ha pronto o later di morire e è molto più importante di proporzare la vita per gli occhi invece di anni di vita perché ad esempio ad esempio una valve in 100 pazienti non è necessariamente una buona idea e abbiamo togliere questo che è veramente un argomento molto forte e poi c'è sempre la questione se potremmo continuare a cercare di targare un argomento patofisiologico o se potremmo seguire quello che gli oncologici stanno facendo scegliere una proteina e poi attraverso sulle proteine con alcune specifiche drogze e questo è un grande cambiamento ma non credo che siamo ancora a questo live e credo che dovremmo continuare a fare il tipo di ricerca che abbiamo fatto in così attraverso dobbiamo di avere un testo facile clinico che siano condizioni dobbiamo revisare tutti i processi per l'inforo consenso per la necessità di fare molto stricte monitorazioni o se potremmo monitorizzare per certi studi che sono semplici con meno intensità e so far stiamo facendo molto e bisogna sete quali sono nostri target per esempio per la infarction di bisogna vedere se possiamo blocar le reperfusion damage per la fisiopatologia con riduzione fraccione bisogna phenotypare un po' più pacienti per l'arritmias bisogna usare più dispositivi di persone per la fisiopatologia fisiopatologia con fraccione presenza di fraccione di bisogna comprare la fisiopatologia quindi c'è molto da fare e sicuro che la cardiologia continuerà mantenendo la guardia e continueremo con il nostro successo Grazie a tutti